Vado a vedere se il signor conte può, senza dare al maggiordomo il tempo di finire la frase, il commissario raggiunse il corridoio e si diresse verso la biblioteca. Il domestico sospirò con aria rassegnata. Ormai non si riusciva neanche più a salvare le apparenze. La gente andava e veniva come fosse a casa propria. Era la fine. Prima di aprire la porta della biblioteca, Maigret rimase un istante in ascolto, ma non udì alcun rumore. E fu proprio questo a rendere ancora più sconcertante la sua apparizione. Bussò pensando che forse il prete era altrove, ma subito, nel silenzio assoluto della stanza, risuonò ferma e chiara una voce. «Avanti!» Maigret spinse la porta e si fermò. In piedi, il conte di Saint-Fiacre, leggermente appoggiato al tavolo gotico, lo osservava. Accanto a lui, il prete fissava il tappeto mantenendosi perfettamente immobile, come per il timore che il più piccolo movimento potesse tradirlo. Che cosa stavano facendo quei due? Non parlavano, non si muovevano. Sarebbe stato meno imbarazzante interrompere una scena patetica piuttosto che piombare in quel silenzio così profondo che la voce sembrava di segnarvi cerchi concentrici come un sasso gettato nello stagno. Ancora una volta il commissario percepì la stanchezza di Saint-Fiacre. Il prete sembrava sgomento e tormentava con le dita il breviario. «Chiedo scusa se vi disturbo». La frase suonò involontariamente ironica. «Si possono forse disturbare persone inerti come cose inanimate? Ci sono novità dalla banca!» Lo sguardo del conte si posò sul parroco ed era uno sguardo duro quasi rabbioso. Tutta la scena sarebbe andata avanti come al rallentatore. Maigret aveva l'impressione di avere davanti a sé dei giocatori di scacchi che riflettono con la fronte appoggiata alla mano e rimangono per parecchi minuti in silenzio prima di muovere un pedone per poi ritornare all'immobilità. Ma immobilizzarli non era tanto il fatto che stessero riflettendo quanto piuttosto Maigret era convinto la paura di compiere un passo falso o una mossa sbagliata. Fra loro tre c'era un qualcosa di ambiguo e ciascuno faceva avanzare il proprio pedone a malincuore pronto a ritirarlo. Sono venuto a prendere le istruzioni per le esequie sentì il bisogno di dire il prete Non era vero una mossa sbagliata così sbagliata che il conte di Sanfiacre sorrise. Sapevo che avrebbe chiamato la banca disse e le confesserò che se mi sono deciso a questo passo è stato solo per liberarmi di Mari Vasiliev che non voleva lasciare il castello le ho fatto credere che fosse di vitale importanza Negli occhi del prete Maigret leggeva ora l'angoscia e il biasimo Sciagurato pensava di certo si sta dando la zappa sui piedi sta cadendo in trappola è spacciato Silenzio Lo sfregamento di un fiammifero e le boccate di fumo che il commissario buttava fuori una dopo l'altra mentre chiedeva al conte «Gottier ha trovato il denaro?» Una breve brevissima esitazione «No commissario le dirò che…» I segni del dramma che si stava svolgendo non si notavano sul viso di Sanfiacre ma su quello del parroco era pallido le labbra piegate in una smorfia amara e faceva evidenti sforzi per non intervenire «Signor commissario vorrei…» non ce la faceva più «Vorrei pregarla di mettere fine a questa conversazione e di concedermi un colloquio a quattro occhi» E anche questa volta Maurice sorrise Faceva freddo in quella stanza troppo ampia dove si notava l'assenza dei libri più belli Nel cammino i ceppi erano pronti bastava giattarvi un fiammifero A un accendino e mentre Sanfiacre si chinava per accendere il fuoco il prete lanciò a Megre uno sguardo angosciato supplichevole «E ora disse il conte tornando accanto ai due uomini cercherò di chiarirle in poche parole la situazione per ragioni che mi sfuggono il signor parroco che è pieno di buona volontà è convinto che sia stato io a perché poi aver paura delle parole che sia stato io a uccidere mia madre non si tratta forse di un delitto anche se non è contemplato dalla legge il prete non faceva più un gesto se ne stava immobile e tremante come un animale che sente abbattersi su di sé il pericolo ma sa di non poterlo affrontare il signor parroco doveva avere una grande devozione per mia madre e ha voluto senz'altro evitare che il castello si trovasse al centro di uno scandalo ieri sera mi ha fatto avere tramite il sacrestano 40.000 franchi e un biglietto e lo sguardo del prete diceva al di là di ogni possibile dubbio sciagurato ti stai rovinando con le tue mani ecco il biglietto continuò Sanfiacre Maigret lo lesse sottovoce sia prudente prego per lei finalmente fu come una ventata d'aria fresca di colpo Sanfiacre non si sentì più inchiodato al suolo condannato all'immobilità e di colpo si tolse quella maschera di serietà che non gli era abituale cominciò ad andare su e giù per la stanza mentre la voce tradiva il sollievo dunque commissario è per questa ragione che lei mi ha visto stamattina gironzolare attorno alla chiesa e alla canonica i 40.000 franchi che ovviamente considero un prestito li ho accettati innanzitutto come le ho già detto per allontanare la mia amante mi scusi signor parroco e poi perché sarebbe stato particolarmente sgradevole venire arrestato in un momento simile ma stiamo in piedi come se accomodatevi vi prego andò verso la porta l'aprì e tese l'orecchio al piano di sopra si sentivano dei rumori ecco che ricomincia il corteo mormorò bisognerà che telefoni a Mulan per far preparare la camera ardente e subito riprese immagino che adesso avrà capito una volta accettato il denaro non mi restava che andare dal signor parroco e giurargli che non ero stato io ma non potevo farlo davanti a lei commissario senza aumentare ulteriormente i suoi sospetti tutto qui stamattina vicino alla chiesa lei non mi ha lasciato solo neppure per un attimo come se avesse indovinato i miei pensieri e poi il signor parroco è venuto qui e non so ancora per quale ragione visto che da quando lei è entrato non si era ancora deciso a parlare il suo sguardo si offuscò rise come per dissipare il risentimento che si stava impadronendo di lui ma fu un riso forzato semplice vero un uomo che ha fatto una vita sregolata e che ha firmato degli assegni scoperti il vecchio gotier mi evita sarà senz'altro convinto anche lui che d'improvviso guardò il prete con stupore ma signor parroco che cos'ha in effetti il prete aveva un'aria funerea il suo sguardo evitò il giovane e tentò anche di evitare gli occhi di maigret Maurice de Saint-Fiacre capì ed esclamò con tanta più amarezza lo vede non mi crede ancora ed è proprio chi mi vuol salvare ad essere convinto della mia colpevolezza si affacciò di nuovo alla porta dimenticando che in casa c'era il cadavere di sua madre gridò Albert Albert ma si sbrighi per Dio ci porti da bere il maggiordomo accorse e si diresse verso un armadio da cui estrasse una bottiglia di whisky e dei bicchieri i tre uomini lo osservarono in silenzio poi Maurice de Saint-Fiacre disse con uno strano sorriso ai miei tempi non c'era whisky al castello ne buttò giù un bicchiere colmo e andò a chiudere la porta alle sballe del domestico sono cambiate un mucchio di altre cose mormorò come a se stesso intanto non perdeva di vista il prete che sempre più a disagio balbettò vi prego di scusarmi c'è il catechismo che mi aspetta un momento lei signor parroco è ancora convinto che io sia colpevole su non cerchi di negare i preti si sa non sono capaci di mentire ma ci sono alcuni punti che vorrei chiarire lei non mi conosce non era a San Fiacra ai miei tempi ha solo sentito parlare di me indizi veri e propri non ce ne sono il commissario che era presente al dramma ne sa qualcosa la prego balbettò il prete lei non beve alla sua commissario il suo sguardo era cupo seguiva il filo dei pensieri rabbiosamente ci sono parecchie persone sulle quali si potrebbero avere dei sospetti eppure lei sospetta di me solo di me continuo a chiedermi perché stanotte a furia di pensare a tutte le possibili ragioni non ho chiuso occhio e alla fine credo di aver capito che cosa le ha detto mia madre questa volta il prete si fece pallidissimo non so niente balbettò la prego signor parroco lei mi ha dato una mano d'accordo i suoi 40.000 franchi mi permetteranno di riprendere fiato e di seppellire decentemente mia madre la ringrazio di tutto cuore ma nel frattempo non rinuncia a far pesare su di me i suoi sospetti lei prega per me è troppo o non abbastanza nella sua voce si cominciava a percepire una sfumatura di collera di minaccia in un primo momento ho pensato che dovevo avere una spiegazione con lei senza che il commissario Megre fosse presente beh non ne nascondo che adesso sono lieto che sia qui anche lui più ci penso e più ho la sensazione che ci sia sotto qualcosa di poco chiaro signor conte la scongiuro smetta di torturarmi e io l'avverto signor parroco che non se ne andrà di qui prima di avermi detto la verità era un altro uomo era esasperato e come tutte le persone deboli e miti poteva essere di una ferocia inaudita aveva alzato la voce tanto che ormai dovevano sentirlo sin dalla camera mortuaria situata proprio sopra la biblioteca lei vedeva regolarmente mia madre e immagino che anche Jean Mettaillet frequentasse la sua chiesa chi dei due ha detto qualcosa mia madre non è vero Megre si ricordò di ciò che aveva sentito il giorno prima il segreto della confessione capì allora le sofferenze del prete la sua angoscia il suo sguardo da martire mentre il torrente di parole di San Fiacro lo investiva che cosa può averle detto la conosco sa si può dire che ho assistito all'inizio del tracollo siamo tra adulti gente che sa tutto della vita si guardò intorno in preda una collera sorda c'è stato un tempo in cui tutti entravano in questa stanza trattenendo il respiro perché ci lavorava mio padre il padrone non c'era whisky nell'armadio ma gli scaffali erano carichi di libri come i favi di un'arnia sono saturi di miele anche Megre se ne ricordava se ne ricordava e come il conte sta lavorando bastavano queste parole a far fare due ore di anticamera ai fittavoli il conte mi ha detto di andare da lui in biblioteca e il padre di Megre ne era turbato perché quella convocazione assumeva il carattere di un grande avvenimento non sprecava i ceppi e si accontentava di uno scaldino a petrolio lo sistemava accanto a sé lo preferiva al radiatore disse Maurice de Sanfiacre e al prete che appariva scosso ma lei non può saperlo ha conosciuto il castello quando già regnava il disordine mia madre aveva perso il marito il suo unico figlio a Parigi faceva una sciocchezza dopo l'altra e veniva qui solo per batter cassa allora i segretari aveva gli occhi così lucidi che Megre si aspettava da un momento all'altro di vederne sgorgare una lacrima che cosa le ha detto aveva paura di vedermi arrivare vero sapeva che ci sarebbe stato un altro buco da tappare qualcosa da vendere per evitarmi ancora una volta dei guai si calmi la prego disse il parroco con voce atona non prima che lei mi abbia detto se ha sospettato di me senza conoscermi fin dal primo momento Megre intervenne il signor parroco ha fatto sparire il messale disse con lentezza ormai aveva capito e offriva una piglia a San Fiacre immaginava la contessa combattuta fra il peccato e i rimorsi non aveva paura del castigo e non provava un po' di vergogna davanti a suo figlio era una donna angosciata squilibrata e forse un giorno nel segreto del confessionale aveva detto ho paura di mio figlio non poteva non aver paura di lui il denaro che elargiva i vari Jean Metaillet era denaro dei San Fiacre e aspettava Maurice Maurice che prima o poi sarebbe venuto a chiedere spiegazioni Maurice che Maigret sapeva che queste idee si stavano facendo strada ancora confusamente nella mente di Maurice e lo aiutava a metterle a fuoco se la signora contessa ha parlato sotto il vincolo della confessione il signor parroco non può rivelare nulla l'effetto fu immediato Maurice San Fiacre pose bruscamente fine alla conversazione la prego di scusarmi signor parroco avevo dimenticato il suo catechismo spero che non me ne vorrà se ho girò la chiave della serratura e aprì la porta la ringrazio non appena potrò le restituirò i 40.000 franchi perché immagino che non siano suoi li ho chiesti alla signora a ruinarla vedova del vecchio notaio grazie arrivederci ebbe la tentazione di sbattere la porta ma si trattenne guardò Maigret negli occhi e disse scandendo le parole che schifo voleva salvarmi lo so ha tentato di evitare lo scandalo di rimettere insieme in qualche modo i cocci del castello di San Fiacre ma non è questo il punto si versò del whisky e a quella donna che penso prenda Marie Vassiliev e tutte le altre a Parigi non hanno certo crisi di coscienza quelle lì ma lei la verità è che in quel metaglie lei cercava soprattutto affetto affetto da prodigare poi si precipitava a confessarsi probabilmente si considerava una specie di mostro di qui a temere che volessi vendicarmi la sua risata faceva spavento mi ci vede scagliarmi contro mia madre pieno di indignazione per e questo parroco che non ha capito lui giudica la vita attraverso i testi sacri finché mia madre è stata viva ha sicuramente cercato di salvarla da se stessa e quando è morta ha pensato che fosse suo dovere salvare me ma a questo punto ci scommetto è convinto che sia stato io e guardando il commissario dritto negli occhi disse e lei? e visto che Megret non rispondeva perché un delitto c'è stato un delitto che solo un farabutto della peggior specie poteva commettere uno schifoso vigliacco è vero che la giustizia è impotente contro di lui? lo ha detto lei ma io voglio dirle una cosa commissario e le permetto di usarla contro di me quando lo avrò tra le mani quell'urido farabutto è con me che dovrà vedersela solo con me e non mi servirà una pistola no niente armi mi basteranno queste mani l'alcol aumentava la sua esaltazione lui stesso se ne rese conto perché si passò una mano sulla fronte e si guardò allo specchio rivolgendo alla propria immagine riflessa un ghigno di scherno certo che senza il parroco mi avrebbero sbattuto dentro prima del funerale non sono stato molto gentile con lui la moglie del vecchio notaio che mi paga i debiti ma chi è neanche me la ricordo la donna che si veste sempre di bianco la casa che è il cancello con le punte dorate sulla strada per madino Maurice de Sanfiacre si stava calmando la sua eccitazione era stata un fuoco di paglia cominciò a versarsi da bere esitò un momento poi buttò giù d'un fiato il contenuto del bicchiere con una smorfia di disgusto li sente? chi? quelli del paese di sopra che sfilano dovrei essere lì in lutto stretto a stringere mani con gli occhi rossi e l'aria affranta e quando sono fuori cominciano i commenti e in tono sospettoso a proposito se come lei dice la giustizia non si occupa del caso perché rimane a Sanfiacre potrebbero esserci delle novità e se scoprissi il colpevole lei mi impedirebbe di le sue dita contratte erano più eloquenti di qualsiasi discorso devo andare taglio corto maigret bisogna che tenga d'occhio l'altro fronte l'altro fronte quello della locanda Jean Metaillet il suo avvocato che è arrivato stamattina si è rivolto a un avvocato è un ragazzo previdente stamattina la disposizione dei personaggi era la seguente al castello lei e il parroco alla locanda il giovane e il suo consigliere lei crede che abbia potuto le dispiace se mi servo maigret buttò giù un bicchierino si asciugò le labbra e si riempì un'ultima pipa prima di uscire naturalmente lei non sa usare una linotipa l'altro alzò le spalle non so usare niente è proprio questo il guaio mi promette che non lascerai il paese per nessuna ragione senza prima avvertirmi san fiacra gli rivolse uno sguardo serio profondo e con voce altrettanto seria e profonda rispose glielo prometto maigret usci stava per scendere la scalinata quando all'improvviso si trovò accanto un uomo sbucato da chissà dove scusi signor commissario mi puoi concedere un minuto ho sentito dire cosa? che lei era quasi di famiglia suo padre era del mestiere perché non vieni a casa mia a bere qualcosa ne sarei un orato e l'intendente della barbetta grigia si tirò dietro maigret attraverso i cortili nella sala da pranzo era tutto pronto una bottiglia di acquavite che l'etichetta dichiarava di età veneranda un vassoio di biscotti secchi dalla cucina veniva l'odore dei cavoli all'ardo a quanto ho sentito dire lei ha conosciuto il castello in ben altre condizioni quando ci sono arrivato io il disordine era già cominciato c'era un giovanotto uno di Parigi che questa è acquavite dei tempi del povero conte senza zucchero immagino maigret fissava il tavolo con i leoni scolpiti che tenevano tra le fauci degli anelli di rame e ancora una volta provò una sensazione di fatica fisica e morale un tempo aveva il permesso di entrare in questa stanza solo con le pantofole per non rovinare il parchè tirato a cire mi trovo in grave imbarazzo e ho pensato di chiedere consiglio a lei siamo povera gente il mestiere di intendente lei lo sa bene non ha mai arricchito nessuno quando il sabato non c'era un soldo in cassa i braccianti li ho pagati io e quando mancava il denaro per comprare il bestiame che serviva ai mezzadri e l'ho anticipato io insomma sta cercando di dirmi che la contessa le doveva dei soldi la signora contessa non capiva niente di affari il denaro scivolava via da tutte le parti solo per le cose indispensabili non c'era mai ed è stato lei suo padre non avrebbe fatto lo stesso ci sono dei momenti in cui è meglio che la gente del paese non sappia che le casse sono vuote ci ho messo buona parte dei miei risparmi quanto? un altro bicchierino non ho fatto il conto non meno di settantamila e anche adesso per il funerale sono stato io a Megret vide come l'avesse avuto davanti agli occhi il piccolo ufficio di suo padre vicino alle scuderie il sabato alle cinque tutti quelli che lavoravano al castello dalle guardarobieri ai braccianti a giornata aspettavano fuori e il vecchio Megret seduto alla scrivania coperta di percalle verde faceva delle piccole pile di monete d'argento i dipendenti entravano uno a uno e firmavano il registro magari solo con una croce adesso non so proprio come farò a recuperare per gente come noi e certo la capisco ha fatto rifare il camino quello vecchio era di legno il marmo è un'altra cosa come no bofonchiò Megret si rende conto tutti i creditori piomberanno come avvoltoi bisognerà vendere e con le ipoteche anche la poltrona su cui l'intendente aveva fatto accomodare Megret era nuova e veniva probabilmente da un negozio di boulevard barbè sulla credenza c'era un fonografo se non avessi dei figli non me ne importerebbe niente ma devo pensare al futuro di Emile io io non voglio precipitare le cose nel corridoio comparve una ragazzina ha anche una figlia no no è una del paese che viene a fare i lavori pesanti comunque Gautier avremo modo di riparlarne le chiedo scusa ma ho ancora molto da sbrigare un ultimo bicchierino no grazie ha detto più o meno 70.000 vero se ne andò con le mani in tasca si fece strada attraverso un branco d'oche e costeggiò lo stagno di Notre Dame dalla superficie ormai immobile l'orologio della chiesa suonò mezzogiorno alla locanda di Maritatin Jean Metaglie e il suo avvocato mangiavano erano all'antipasto sardine filetti di eringa e salame sul tavolo accanto i bicchieri sporchi dell'aperitivo i due erano allegri accolsero Megreti con sguardi pieni di ironia scambiandosi strizzatine d'occhio la cartella del principe del foro era chiusa i tartufi per il pollo li ha trovati sì o no chiese quest'ultimo povera marita te ne aveva trovato una scatoletta in drogheria ma non riusciva ad aprirla e non osava confessarlo sì che le ho trovati e allora cosa aspetta l'aria qui fa venire un tale appetito Megreti andò in cucina e con il suo coltello riuscì a incidere la latta della scatoletta mentre la donna con gli occhi storti balbettava sottovoce mi dispiace tanto io smettila Marie brontolò il commissario un fronte due fronti tre fronti sentì il bisogno di scherzare per sfuggire alla realtà a proposito il parroco mi ha incaricato di portarti trecento giorni di indulgenza tanto per compensare i tuoi peccati Marie è marita a te che non capiva gli scherzi guardava quell'uomone che le stava di fronte con un misto di timore e di rispettoso affetto di rispettoso di rispettoso di rispettoso di rispettoso di rispettoso di rispettoso che si non capiva l'euro di rispettoso di rispettoso di rispettoso di rispettoso Grazie.